Comodi, 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 commissario Magrini vi saluta e se ne va in licenza. Questo biglietto per ricordarvi che sono la pensione Acqua Sparta a Vico e Quenza. Prefisse 081, Abunesse, telefono 2530. E per ricordarvi che per nessuna ragione voglio essere disturbato, solo nel caso che arrivasse la promozione, oppure se per qualche appuntamento intimo mi telefona Sofia Loren, Lucid Bardot o Laura Andonelli. Scommissario, andate in compagnia. O che la cosa là, ai cani si vede, agli uomini si suppone. Vi sono voluto scomodare. Grazie, grazie. Comissario Magrini, è per voi. Eh? Oh, santa ruziatina mia. E sta a vedere pure questa volta, ma tutte le vacanze, eh? Sì, che quenza è stata buona. Sì? Signor, sì, signor questore. Sì, signor questore.